La quindicesima edizione del Campione, un premio milanese, tutto dedicato alle persone che fanno della solidarietà e del volontariato la loro cifra. Quest'oggi qui a Palazzo Marino a Milano i City Angels, in collaborazione con Copp Lombardia, col Comune, hanno premiato Gino Strada e molti altri testimonial di questa importante campagna di solidarietà. Quest'anno di particolare c'è il premio Campione della Gente, realizzato in collaborazione con Copp. Copp ha coinvolto i suoi clienti, amici, oltre 630.000 persone, che hanno scelto tra una rosa di 10 nomi, è un nome emerso con grande spicco, ed è quello di Gino Strada. E poi ci sono i campioni classici, questo è un premio ormai arrivato alla quindicesima edizione, e sono alcune persone conosciute, altre persone sconosciute, ciascuna delle quali però è un modello di solidarietà, di civismo, di buon comportamento. Quindi persone a cui veramente poterci ispirare e dire, ecco, queste sono delle belle persone. Grazie a Copp è stato possibile premiare Gino Strada. Le parole del Presidente Guido Galardi di Copp Lombardia dimostrano che ancora una volta la gente ha fatto la differenza. Copp si è messa a disposizione, attraverso i soci ha fatto votare i propri soci, i propri consumatori, oltre 600.000 hanno partecipato e in larga parte hanno votato Gino Strada.